E se esistesse una nuova tecnologia per nutrire le tue piante in modo più veloce ed efficiente? Scopri la nuova tecnologia GCAA nei fertilizzanti ammino-oltra e aumenta fino al 60% l'efficienza di nutrizione delle piante. GCAA è l'unione di micronutrienti e amminoacidi in un unico granulo. L'innovativa tecnologia GCAA assicura che tutti gli ingredienti vengano forniti alle piante in modo più rapido ed efficace rispetto ai normali fertilizzanti a base di micronutrienti. GCAA migliora la crescita e lo sviluppo delle piante, accelerando il trasporto di acqua e nutrienti nella pianta, stimolando la sintesi di fitoormoni, aumentando l'efficienza della fotosintesi, rinforzando la resistenza naturale delle piante. Inoltre, gli amminoacidi contenuti in ammino-oltra intensificano la costruzione delle proteine. Ammino-oltra nutre efficacemente le piante, anche in condizioni meteorologiche avverse. Se vuoi aumentare la quantità e la qualità dei tuoi raccolti, fidati della scienza, non della magia. Grazie alla tecnologia GCAA, la pianta viene nutrita entro diverse ore dall'applicazione. Gli studi confermano un aumento significativo dell'efficacia della nutrizione delle piante con microelementi dopo l'utilizzo di ammino-oltra. Infine, le tue piante vengono nutrite meglio, dandoti una resa e un profitto più elevati. Scegli i fertilizzanti ammino-oltra con la tecnologia GCAA in forma di ultragranuli. Ammino-oltra, una tecnologia innovativa per una nutrizione ultra rapida delle piante, anche in condizioni difficili. Scopri di più su ammino-oltra.it